Eccoli finalmente gli uffici di via Torino. Ci porta a fare il sopralluogo dopo la prima tranche di lavori da un milione e mezzo di euro l'assessore alla semplificazione Filippo Zanetti. Tre piani, mancano altri 800 mila euro di lavori per completare il terzo piano. Di fatto questi uffici saranno il front office del comune con la città. Qua ci sarà il front office, soprattutto quindi anagrafe, tributi, permessi ZTL, uffici oggetti smarriti, consegnati. In piazza Biade rimarranno comunque gli uffici tecnici del comune. Loro non hanno pubblico con i cittadini e lavorano con le imprese. E poi rimarrà l'ufficio di cercando il lavoro, tutta la parte di formazione cercando il lavoro. Ci sarà il patrimonio. Una zona definita logisticamente vantaggiosa, con parcheggio ben servita, ma sulla quale le opposizioni da tempo hanno posto il loro vetto. Trasferire qui uffici e dipendenti, ma a quale prezzo? I mal di pancia dei lavoratori e dei sindacati sono ben noti. E così, durante il sopralluogo in via Torino, oggi abbiamo incontrato anche le opposizioni, a cui una visita qui era stata negata. Siamo introforati con i giornalisti, perché sappiamo che giustamente i giornalisti contano molto di più dei consigliari comunali. Comunque non abbiamo fatto una richiesta ufficiale, non abbiamo ristruto risposte e adesso l'aspettiamo. Non è spostando i servizi comunali qui che si risolvono i problemi. Anzi, riteniamo che ci sia un pericolo per gli utenti per poi venire in uffici dove intorno c'è spaccio, c'è prostituzione, ci sono rapine. Una mossa che sa tanto di manifesto elettorale contestano le opposizioni che non ci stanno a vedere svuotato il centro dai servizi al cittadino. Riteniamo che i servizi comunali debbano rimanere all'interno del centro storico per dar vita al centro storico e qui abbiamo proposto in accordo con URSS una rete di servizi di medici di base, di guardia medica, che possono comunque dar vita agli uffici e quindi al territorio circostante. Il Movimento 5 Stelle invece propone di trasferire qui la polizia locale. La polizia locale qui, ma soprattutto non si può fare un passaggio così importante di ufficio comune a cavallo di due amministrazioni. Aperto tutte le mattine, martedì e giovedì pomeriggio, almeno fino all'insediamento della nuova amministrazione.